... Prego ascoltare la lettura degli articoli del Codice Civile che regolano i rapporti dei coniugi tra loro. Articolo 143. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza. Basta il piaccio, su, monta in macchina. Monta in macchina. Piantala. Non posso dire nulla. È mio figlio, per Dio. Vieni qui. Papà non ti ha mai picchiato? Sei scemo, ma nessun uomo mi ha mai picchiato. E allora ti picchio io. E Eugenio, ma che sei pazzo? Stai fermo, Eugenio. Smettila. Ai, mi fai male. Perché ti rispettila. Aia. Scendi. Avanti. Guarda che scendo. Scendi. Io scendo. Scendi. Scendi. Dov'è, Eugenio? Non lo so, ho da fare. Senti, tra i colori, mi parte lei. Dimmi dove l'hai messo. No, lasciato per strada. Sembra distrutta. Forse perché sono incinta. Cazzo, me lo dici così? E come te lo devo dire? Beh, questo lo regaliamo Eugenio. Sono sicuro che lo desidera un fratellino. Tu, maschio, regali al tuo figlioletto maschio un altro maschio che io sono incaricata di partorirti. Ma tu questa volta non regali niente a nessuno, hai capito? Io abortisco! Abortisco! Ciao, non sono venuta a prenderti perché stavo lavorando. Ti dispiace? Un po', ma non molto. Anzi, molto, ma non fa niente. Voi come dormite? No, volevo dire, dormite nella stessa camera. Questi pensano di dividersi prima ancora di sposarsi. Ti prego, Eugenio, non provocare. Provocare chi? Loro? Maggio, Roberto! Nassù, Maria, Roberto! Per tua norma sono sessualmente sana, vado a letto con chi mi pare e quando voglio, senza difficoltà. Stronzo! Bernardo, dai! Eugenio! Prima, regio. Reparto 4. Prima, regio. Da parte, regio. Beh, con lei o senza lei, sua moglie e figli li ha fatti. Ma il punto è, perché li avete fatti? Perché si fanno ancora bambini? Beh, con lei o senza lei, sua moglie! Ho büyük! Grazie a tutti.